Saluti benvenuti a FURIADROGIUSU LITERARIUSU FUADAU SUOI DE LIMBA SARDA, DUVEUSU CON DUNO PROFESSORI, CON DUNO ATTIVISTA Saluti benvenuti Giuseppe Corronca Grazie a tutti, grazie a te socombiti e saluto a tutti Giuseppe, devo iniziare a buon arcano Scanto di fai, un attobio di importo, una vesta di salimba Tuvi di gustasi, di vai presciai, iniziare su Dengoni Contasino, ma credo che ti esi fatto, ti esi bivio, in cui stai a due adizi in buon arcano Sì, buon arcano, come ti dottor Sosanno, festiamo, come te CSU Cioè, come te coordinamento per lo Sosardo Uffiziale Questo assozio che si è costituito proprio un po' a valorare la limba nostra Ogni anno, a Tobi Amoso, proprio un po' festare la Dia Europea di Salimba Che si festa da su Vintisese dei Capodanni ogni anno E questo è stato un attobio, un attobio, un po' di monare, riproso polemico, incisivo In dite senso Beh, questa è una proposta di legge in regione In cui si rischia da un attobio di tornare Narimoso, di accantonare i standard E tornare volsisi un attobio a cosa, che sono Narimoso, salvariantes, dialettales e locales Quindi, il commento e il coordinamento Amoso, un uppago denunziato questa cosa E sperando che, appunto, sospoliticos in regione Tenze un uppago delle sensibilità De proprio un po' lompere al suo cammino Di Salimba Comuna Che è, secondo me, proprio Sa cosa fondamentale E il fondamento, proprio, può essere Potremmo narrare un uppago Di pari passi, in italiano Assi Europa Assi chi pregunta assi Europa A tutti i salimba del suo mondo Che tenendo i standard Sa seconda cosa Che tenzo a precisare Di questo attobio Deo, ma, dell'umano Non so potete Abbarrare fin se la sadie dopo Cioè, la domenica Se sei fatto su Zappado E questa domenica Ha fatto un intervento su Zappado Poi che stanno i familiari Se non mi so potete Trattenere, riducasse A Sabina Se stessi là Ho vinto su un documento E, ecco, so Quello, su questo documento Ditta, strogara Ditta, si pregontara In questo documento È un documento politico Sì, uno documento Deo, tenendo la verità Deo, non ho tento ancora A maniera Dello, ieri Che, insomma Poi, se sono amici Dei successi umani A fare che tenere Proprio su desto Su senso Però di poterare Proprio in sintesi Proprio besti una richiesta A sa regione A sospolitico Regionale Regionale Se deve proprio Chilcare De mezz'orare Custodesto Custoproposta De legge E duca Saffa e dare In maniera clara Proprio De limba Iscritta Su Su nodo Proprio centrale E proprio Custodesto Di scrittura I standard Una De Des Preguntas A chi In giro Intendevo Che chi va Intendevo Ma è Tampo Orton Cesti A scrittura In maniera Non manda venne In su Gale Finza Sa pochissione Seder Traballo Quando Ho Cominza A collaborare Finza Con sa regione In progetto Sa Atalanta Toponomastico Ma Finza Si Sportello Linguistico Regionale Cioè Si Devo Iscrivere Mi So Dei Guglieri So Guglieri Danu Si Iscrive In Guglieri Danu Non Penso Che Tutto Mi Comprendene Capisuno Volsisi A livello Lessicale Calchi Termine Fatto Un Esempio Pol Crabu Cerenare Cinghiale Però Sinaro Sirbone Che Si Un Pago Pruso Comprensibile Mi Comprendene Tutto Tu Casadeo Da Guglieri Danu Sinaro Pol Crabu Non Tenzo Difficultate In Si Iscrivere Sirbone Sirboni A Seconda Appunto Desa Ovviamente Gusto So So Localismo So Però Se Rischio De Non Tenere Proprio Una Situazione Uniforme Assumman Così In Si Scrittura In Su Fa Ed Do Bada Mancare Atter Ognuno Fa Edda In Sa Propria Variante Però In Si Scrittura Abiso Me Abiso Appunto De De Soschi Sostenini Appunto Si Standard Unico E Este Proprio Necessario Aggiungo Una Cosa Guido Beste Puro Sa Chistione Di De Solito Si Tendete A Partire Locutoresu E Campitanesu Però Deo Naro Cale Locutoresu Cale Campitanesu Poi De Pese Scega A Pizzo De Su Standard Cercate In Cunhina E No Banda Veni Su Standard Però Non Uno D'uso Su Standard Campitanesu E Su Standard Locutoresu Sa Pregunta Che Vari Su Professor Corron Che Esti Cali In Fatica Si Andamos Poi Assin Finito Assora Assinterno Narimos Di Su Campitanu Dess Area Geografica Di Su Campitanu Bisogna Variante Ulteriore Cioè Savvina Finimos Su 377 Comunas In Sardegna Quindi Ogni Comune De Prendere Su Standard So Quindi E Una Cosa Impossibile E Duc Cust Est Un Pag C C C Poi E Sc C C C P P Nato Fin Sa Sa Limba Comuna Este Una Limba Che Potrebbe Essere Perfezionata Emendabile Perfettibile Tutto Su Che Rimoso Però Posso Momento Tenimos Con Sa Limba Di Riferimento Este Sa Limba Comuna Una Limba Appunto Una Limba Bandera Come E Ben Di Definita Este Stata Nascita Con Sa Giunta A Zoro Calchi Anno A Como In Sud A Sese Se Non Mento Male E Duca Sa Proprio Tenere Posso Momento Usa Veste Ufficiale Sa Limba Propo In So Documento So In Sida Da Sa Regione Duca Sa Tenimos O Gusta Possibilitate Della Impreare Posso Momento Po Si Sub Benidore Insomma Ad Maestro Esi Da Qualche Cosa De Modificare De Mezzorare E Sempre Ben A Zetto Fuso Questa Trasmissione Popolari Fuso Est Andare Ben I Mera Presenza Sa Numero Su De Importo Come Te Sta Parigiara Sa Vesta Si Si Stora Sa Vero Vota Dende Dice Vari Che Est Una Cosa Già Politica Conferenza Sa Documento Su Firmas No Di Est Tra Cosa Vuro No Bonarca Do De Solito Sa Vesta Vesta Sa Limba Tengo A Precisare Proprio Questa Vara La Festa Meda D'Importo Cioè Non solo Limba Ma Festa Poi Te Bisogna Appunto Atteras Iniziativa Sa Visita Archeologica Sa Quindi Este Vincese Uno Momento Culturale Musica Ducasa No Este Solo Documento So Seriedade Bada Vincese Con Vialidade C Vincese Si Bappato Tubari Si Ducasa Beste Proprio Non Solo Rapporto Istituzionale Se Bona Arca Ogni Anno Gare Dessere Proprio Stimulo Posa Politica Noi Siamo Un Movimento Abbastanza Trasversale Ducasa No Bisuno Appartenenzia Sa Politica Sa Da Direta Manca Centro E Gasi Assigere Tutto Soschi Gare Bene A Salimba Gisiene De Una Parte Politica O Desatera Sono Bene Azzetto Ducasa Salimba Sarda Non Este Monopoli De Una Parte Politica Ma Este Un Patrimonio De Dottos Sardos Proposo A Modare Argumento A Sua Stam Io Sono Un Cestino Professori Un Insegnanti Traballano Proprio In Carbonia Sa Città Di Carbonia Che Impre Un Cesti Dessa Lingua Sarda In Sa Scola Do In Scola Sa Veritate No Este Mai Estado Affrontato De Un Segno A Cipi Ass Istituto Professionale Emanuele Allui In Carbonia Non Este Mai Stato Affrontato Su Discurso De Sa Limba Però Penso Puro Che Si Pote De Finza Fagge Calchi Cosa A Livello De Progetto Es Craro Si Sa Dirigente Si Mesti Scultante Si Puode Finza Sproporne Proporre Custa Iniziativa Potrebbe Sere Una Manera Finza Sposo Spicciocco De Con Schere Finza Sal Minoria Linguistica In Generale E Poi Ovviamente Un'attenzione Prulmanna Su Sardo Che Este Sa Limba Nostra Una Cosa Naro Folt Is In Istituto Professionale Sende Proprio Un Indirizzo Pruso Mirado Cioè In Un Liceo Potrebbe Nesse In Senso Però Insomma A Savine Sa Limba Sarda Penso Che In Calisi Sia Di Scola Potrebbe Sere Finza Introduhida Studiata Approfondita Custo Este Finza Sono Problema Scrarlo De De Sensibilità De Ogni Dirigente Si Chiede Insomma A Zucra In Antesi Un Discurso Di Custo Tipo Chiede So Abelto A Cale Sia Da Possibilitate In Canta Impreo Cando C'ha Lezioni C'è Sti S Insignanti In Sagatte Tocca La Fuerda C'è Italiano Ma Cando D' D' Libertà Dicando Punti Sa Recreazioni Dicando C'è Monti Momento C'è Tranquillo Su Linguistico De Spiccio Cato Esti Italiano O Tinacata Sagavastra Vincere C'è Nuova Ghe Desardo Prus C'è Toto Tra I Mascos Sopredotto Capita Da Chi De Apotente Uno Picciocco Un Alluno Sanno Passau De Perdage Fai Dai Rigorosamente Imperdageso Quindi In Limba Esti Stato Rimproverato Da Calchi Docente Cus So Narimoso Ben De Vora Ecco Mancari Sono Un Pago Plus Pago Sensibile Sede Invece Mi Faccio Pagare Custa Cosa In Su Senso Che Sa Limba Sua Esti Stata Cioè Ciccari Sempre Della Is L Pagia Po Brulla Scra L Capo Si Cus Spicciocco Sono Meta Un Pago Su In Sa Trampa Po Di Molnare De Banalizzare Sa Limba Sarda In Su Senso Che Su Rischio Quando Uno Vai Dal Sardo Este Sempre Contesto Informale Sempre Roba De Zilleri No Sa Limba Sarda Potete Essere Comunque Potete Essere Questo Contesto Che So Facendo Contegus Finza In Contesto Formale E Potete Essere Finza Una Limba Che Este Veicolo De Cultura Di Molnare Potete Assumere Un Ruolo Un Vago Prus Alto Quindi Si Sospicciò Cosa Intrana In Custa In Questo Meccanismo Este Già Positivo Posso Risto Po Rispondere A Sa Domanda Dua Noi Schi Bisiede Fa In Saldo Qualche Cosa In Saldo Si Narada Però E Scraro Che È Una Cosa Esporadica E MEDA Rara Deo Non E Che Bola Fai Volemica Voi Ta Però Posarto Sise Ascordandese Indomo Arremonai Che Calincuno Insegnanti No Atenta Grarescio Che Gusto Vi Ci O Chiedo E Si Fui Da Un Sarto Detta I In 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 Regioni In S'Ufficio De Salimbasarda Non Tutto S'Uscinti Grazie A Dio Un Ufficio De Salimbasarda Un Ufficio Che Ha Fatto E Fende Cosas Importanti Si Strogas In Vagre Come Testi Strutturato E Tavairi Si De Ho Appo Collaborato Insomma Parizzo Sanno Il Fagate Come Bisogno Atero Amigos E Collegas Competentes E S'Ufficio In Generale Si Occupa Da Proprio Sia De Bortaduras O Traduzione E Mezzo Su De Documentos In Limbasarda Si Occupa Si Bisogno Iniziativa De Approntare Manifesto So Ovviamente Tutto Rigorosamente A norma A norma Ortografica Si Occupa Da In Tempo In Tempo Succolato Insomma Qualche Anno Vagre Mi So Occupato De Toponomastica De Normalizzazione Appunto Dessa Cartellonistica Quindi Macro Toponomastica Dotto Salbidda Dessa Sardigna Appo Cumbidado Comente Operatore Appunto Dess Ufficio Linguistico Dessa Amministrazione Comunale Se proprio A deliberare A fare Una delibera Degustizio Comunale Proprio Istituzionalizzare Può dare Un nomine Ufficiale Proprio A Sabidda Fatto Un esempio Cagliari Casteddu Sassari Tattari Sonande Appunto Nuoro Nucolo Città Se principale Sardigna E Gasi Assigere Quindi Beste Proprio Un'attenzione Mannap Su Problema Linguistico Noi Non Deppiamo Sammentare Che siamo Su una regione Appunto Autonoma Statuto Speciale Poi Degustos Tempo Insomma Finza Sa Questione Catalana E Una Questione Che Dice Fatto Noi Prus Che Tutti In Social Sì Di Mera Cesti In Già Questi Singhizzo Su Sardos Vuro Pensamento No Indipendenza Valoramento Dessa L'imbasarda Cesti In La Vaglia Sa Catalonia St Altra Cosa Nosus E Os Atrus Non Deppi Scusi Si Dea Su Professor Giuseppe Corronca Che Se Si Vince Uno Storico Dunca S Dei Elemento Si Deo Narimoso Opinione Che Mi So Vatto Deo Ma Vinces Da Simple Zittadino Es Custa Cioè Sa Catalonia In Effetti Este Qualche Cosa De Differente Rispetto A Sa Sardegna Ma Vinces Economicamente Este Una Regione Ricca Folti Siccome Bene Di Prusa Sa Catalonia S Indesire Dasi Spagna Che No Si Spagna A Perdere Sa Catalonia L'anaro Gasi Ovviamente Poi Ognuno Scraru Si Vaghe Si De Asua Però In Catalonia Deo Bisogne Stavo Qualche Anno A Como Este Da Su Punto Di Vista Vincisa Sa Desa Politica Linguistica Med Avanzata In Siscola Este Entrada A Regime Prenubo Di Molnare Sa Limba Catalana Isto So Denene Un Senso Manu Di Appartenenzia In Sardegna Beste Seltus Identidade Su Prus Custenzia De Popolo E Second Mie Sa Custenzia De Popolo Si Agatta Da Finza Sa Promedio De Sa Limba In Su Momento In Sucale Dotto Semos Po Sa Limba Po Sa Limba Nostra Ad L'umano Bisogne Saldus Finza Scus Contra Sa Limba Sarda Contra Sa Limba Soria No Che So De Un Pago Polemico In Questo Senso Dispiaga Demeta Quindi Naro A Sos Amico Sardus Che Sono Contra Sos Sardus Insomma Che Este Una Cosa Non Pago Chi Dole Su Goro Salingba Sarda No Este Solo Robba Grezzoso Robba Po Sillere Este Finza Scalchi Cosa Che Si Potete Impreare E A Valorare Po Posa Vida Posa Vida E Finza Sa E Poi Non Samentamo Spuro Su Bilinguismo E Su Plurilinguismo Faggen Bene Faggen Bene A Sagonca Faggen Bene A Sospizino Che Un Pizzino Che Crescete Monolingue Tu E Insomma Tene Prunarimo Este Un Pago Prun Limitato Su Crescete Bilingue I Studi Scientifico Antonella Sorace Insomma Che Este Un Studiosa Des Università Di Edimburgo Docet A Questo Proposito Crescete Non Plus Intelligente Però Con Una Predisposizione Cognitiva Prun Manna E Ducasa Tene De Plus Possibilidades Ovviamente Sardo Italiano Ingles Tedesco Tutus All'imba Faggen Bene E Finza Su Sardo Torrausa Sportello Linguistico Su Ufficio Regionali Trabala Da Vincese In Cunha Manera In Culegamento E Vincese A Giura E A Parigi E Su Sportello Territoriali Si Gosto Un Operadori Un Vicioca Una Vicioca Che Forma Che Sesti Preparò Che Ristudia E Fai Su Mattessi Trabalo Giai Che Si Vare Ragione Dovare A Livello Comunale Tu Tento Manera De Bis Cosas De Castello Dall'alto E Tain Dati Se Fatto Canto Questo Trabalo Estitivato Bene Canto Cesta Ancora De Vai Melluso Beh De Posa Esperienza Mia Che Pudento In Su In Su Ficcio Regionale De Salimbasarda De Pottonare Che Beste Folti Su Problema Un Pag De Pianificazione Come No Is Cosa Situazione Attuale Cale Este Però Quando Ho Collaborato Deo Effettivamente Bivuti Una Collaborazione Un Pag A Intermittenza E Scraro Che In Su Momento In Sugale Sa Regione Dezide De Investire Pro Risorsa E Sensibilità A Custa Tematica Si Pote Fagare Un Discurso Finza A Costo Zero De Razionalizzazione Ducasa De Dialogu Tra Si Sportello Linguistico Regionale E Si Sportello So A Livello Locale Cosa Che Seconda Mio Non Pag Mancata Poi Scraro Bisuno Ovviamente Rapporto So Poi Do Gheasa Ovviamente Finza Scolaborato Forse Si Mi Pote Nare Si Best Stata Proprio Collaborazione Da Su Punto Di Vista Me De Puro Cando A Potento Necessitate Mi Pone In Contatto Con Calchi Collega Operatore De Calchi Sportello Locale Insomma Best Stata Collaborazione Collaborazione Prena Es Crato Chi Narimoso Agattare Ducasa Ammontare Mezzo Tutto Custosi Sportello So Chis Uno Disterrato So In Sportello Sono Attivato So Po Tutta Una Serie De Insomma De Cistione Se Sia De Cistione Se Che Mancare A Calchi Amministratore Non De L'importante Nuda De Nere Su Fizio Appunto Si Sportello Linguistico Comunale Oppure Semplicemente Po Mancanzia De Risursa Somma Sal Motivazione Se Pote Nessere Medasa Però De Sicuro Plus Comunicazione Second Mi Estesa Sagra E Po Fagare Nutribaglio Pro Mirado E Narimoso Omogeneo Su Ufficio Linguistico Regionali Ha Pensato Uno Insano Su De Assa Formazione De Isoperadori Si Ma Vincese Sapareggiamento De Usus Sprazi Naus No Vincese In Città Di Principali Si Ma Vincese De Sa Formazioni Sa Formazioni Claramente Sono Vistone De Un Professori Est Una Cosa De Importo Se Su Vrimus Overro Non Si Va I Pruso Su Vils Su Vils Si Fatto Dos Anno Su Vils Si Vari Regioni Universitari In Pai E Fals Si De Fatto Uno Si Fils Acronimo Formazione Insegnante In Limba Sarda Fals Operadores In Limba Sarda Appunto Chi Sono Stata Sa Duos Iniziativa Sa Chi Insomma Nosana Cramato In Sarda Sa Meda Positiva Sa Proprio Gas Operatore Dependente Una Formazione Una Formazione Linguistica Filologica Su Vils Si Stata Una Occasione A Mostento Professores De Importo Umano Professor Virdis Professor Mario Pudo Insomma Gente Che De Sicuro Fins Ha Dato Sicuramente Una Grande Un Azzud Umano Fins A Poi Sa Formazione A Livello Filologico Linguistico Des Operadores A Su Momento A Livello De Formazione Noi Così E Sto Ancora Attivo Quando Ho Collaborato Dio Bivuti Su Curso Fins A Cubas Che Tenimisi Noi Operadores Cioè Appunto Un Curso De Alfabetizzazione In Limba Sarda Che Fu Dabeltu A Operadores Ma Non Solo Ma Fins A Zente Che Dribaglia In Sa Amministrazione Pubblica E A Cittadino Comune Che Sono Proprio Interessato A Tenere Un'alfabetizzazione In Limba Sarda Ad Pudento Posa Occasione Appovato Un Curso De Politica Linguistica Appovato Un Excursus Pizzo Tutto Sal Minoria Linguistica Des Mundo Sassi Un Presente In italia E Poi Insomma Hamos Affrontato Un Argomento So Plus Politico So Proprio A Livello Legislativo Cale Sono Sallegge De Tutela De Sal Limba Da Carta Europea De Sal Limba Regionales Minoritaria Saffinza Sall'om Per Sallegge 26 Regionale 26 De Valorizzazione Sal Limba Sarda E Sallegge Statale Batte Lotto Du Cosa Custa E Sulla Prospettiva De Formazione Invece Comente Formazione De Sos Operadores E Sotto Vrimmo Ispettamos Chi Bisicare Chi Risposta A Vettendo Se Usu As Vero De Lingua Minoritaria A Remona Usu Sardu Pustisi Dessa Lingua Sa Nazione Italiana Dona Sa Lingua Su Registro Linguistico Italiano Sa Lingua De Cindare Atrapurus Prazinar Atras Accendi Vunti In Sardinia Atras Accendare In Nord Dessa Italia In Canto Riconoscimento Manca Isi Aus Assurrimo Bosto Comente Lingua Minoritaria Vero So Vai Dara Non Se Usu Assurrimo Bosta Comente Riconoscimento Manco In Su Segundo Bosto Manco Sud De Dresi Manco Sud De Quattro Si Venz Aus In Trentino Metali Dei Materias Curricolari Si Vanno In Lingua De Minoria Gosto Boinega Si Vanno In Matematica In Lingua De Minoria Come In Noi Sa Matematica Si Vanno In Sardo E Si Vor Fai Sa Geografia Si Vanno In Sardo E Si Vor Fai Noi In Cora Non Ci Sardo E Noi Ganno Brintara Su Sardo Brintara Un Progetto De Lingua Sardo In Orari Curricolari Questi Già Niente Cosa Ma È Troppo Vago I Testa Contessendi I Venti Passaggi Su Apparimento Do Che Venti Manca Su Venti Passaggi Su Politico Granamenti De Sicuro Bigare Sa Riforma Desi Statuto Autonomo Palti Tutto D'Agosto Cioè Riformando Desi Statuto E Ovviamente Introduindo Salim Basarda Sinterno Desi Statuto Autonomistico Dessa Sardegna E Scraro Chissà Cosa Cambiana Ovviamente Veste Tutto Un Problema De Relazioni Diplomaticas Tra Roma E Castello Che Subentra Magari Sa Corte Costituzionale Che Tendisco Di Blocca Da Una Proposta Una Cosa Quindi Ovviamente Non Sono Giurista Però Su Meccanismo E Un Vago Ostico E Paradosale Su Ganna Due Chissà Prima Minoria Linguistica Siamo Prudì Un Milione De Faidantes In Sardegna Un Milione Sese De Abitantes De Sicuro Prudì Un Milione De Vaidantes In Sardegna Che No Bisiede Proprio Una Possibilità Dessere Assunto Come Prima Minoria Linguistica Con Tutto Sul Diritto Chi Indesigene Forse Se Beste Un Pago Di Timoria In Su Momento In Sugale Un Popolo Si Appropriate Della Propria Limba E Scraro Che Finza Da Su Punto Di Vista Culturale Beste Una Un Pericolo Pro Manno A So So Dessa Istituzione Ma Questo Solamente Su Tempo Benidore Ad Stabilire Che L'Este Ha Volontate De Sard De Sono Democratico Che Dotto Finza Sa Chistione De No Este Nodito Est Abbastanza Crara Sa Posizione Mia So Fortemente Autonomista So Finza Sapo Un Stato Federale In Su Senso Maggiore Se Pruso Mann Sa Autonomia Sa A Assal Regione Se Faggen Bene Su Centralismo Bisogna Non Fagge Tanto E Insomma Questo Centralismo Do Cosa Tocca Da Rispettare Assum Autonomia Locale Se Poi Su Discurso Dis Indipendenza E Scraroghi No Gebur Mi Permito De Vagare Un Analisi Critica Cioè Indipendenza A Livello Folcloristico Non Zuga Da Nuno Loco Sindipendentismo Indipendenza Fatta Con Però Bigger Sa Volontate De Tut Siamo In Serrara De Trasmissioni Giuseppe Corronca Un Esperto De Lingua Sarda Un Attivista Un Andare A Mare Il Naschio Su Pizzino Quindi So Sombrellone Se Sono Abbarrato Si In Macchina Diretto In Ispitale Una Pregunta Personale Filostoso Giuseppe Da San Sardo Si Deo Confizzo Il mio So Tenzo Un Rapporto Ma Da Libero Ovviamente So Prumannito Che De Quasi Tres Anno So Deo Luva Ed In Sardo Ligistione In Sardo Sam Ma Ligistione In Italiano Però Beste Finse Su Una Situazione De Libertà In Famiglia Cioè Si Tenzo De Nare Una Cosa In Italiano Bilanaro In Italiano Si Tenzo De Bilanaro In Sardo Bilanaro In Sardo Is Mi Rispondete Puro In Sardo Ovviamente Sta Ancora Beste Ancora Meta De Vagare Che Su Pizzino Puro A Boltas Am Mistura Da Confondete Però Custo Debe Essere Una Cosa Allarmante Che E Una Cosa Tipica Custo Non Carenare Che Su Pizzino Come In Pizzino So Che Crescene Finse Sa Fai Dande Una Prulimba Sa Tenene Pruso Predisposizione A livello Cognitivo Però Fizzo Messo Pizzino Normale No Genio Gioca Da Vagata Amalo Come Tutto So Pizzino E Cando Marrenego Li Stia Unas In Sardo Pizzino Tarrennega Sì Cosa Cando Sese Calmo Ecco Fai Rialducare In Sardo Fai La Certa In Sardo E Un Registro Linguistico E Poi In Italiano Sia In Sardo Assolutamente E Grazie Grazie Boste A Boste A Boste Grazie A Boste A I Sondici Mancubinti A Sresemesu A Sesi E Pochini Dromi Pago O Non Dromiri O Dromi Mera Brusa Trigario A Mesunote Vuro Canale 40 E Nosso Ciseos Grazie Ancora A Boste E Adios Grazie